Andiamo in Polonia, parliamo un attimo anche della città di Cracovia, dove si trova e che ruolo ha avuto nei secoli di storia. Cracovia è una grande città, 750.000 abitanti, è stata per molto tempo capitale del paese, per circa 600 anni è stata la capitale della Polonia e questo fa sì che sul Wawl, cioè sul castello della città, si trova il luogo della residenza dei re polacchi, della maggioranza dei re polacchi e delle sepolture. Quando la Polonia viene aggredita dalla Germania nazista dopo il primo settembre del 1939, Hans Frank, il governatore generale di questa zona, non annessa direttamente allo Stato tedesco, al cosiddetto Reich, ma appunto occupato e governato da Hans Frank. Questo gerarca nazista prende ufficio nel castello dei re e governa sentendosi legittimato di utilizzare questi luoghi simbolicamente molto importanti per i polacchi, ma evidentemente anche per i nazisti, come luogo del suo governatorato generale. Quindi la città di Cracovia ha una storia, forse si può dire multiculturale, ha una parte di storia tedesca, ha una parte chiaramente grossa di storia polacca, polacca cattolica ha una storia importantissima anche come città degli polacchi ebrei, quindi per l'ebraismo europeo è una città molto importante. Era uno dei quartieri che andrete anche a visitare, Casimias, uno dei quartieri più vissuti da tutti i punti di vista delle infrastrutture della comunità ebraica, con decine di migliaia di ebrei residenti in questo quartiere di Cracovia, con tutte le strutture quasi di un comune autonomo, dalle scuole agli ospedali, chiaramente alle sinagoge e a tutte le associazioni e a tutti i servizi sociali. Importante tenere presente che questo è un quartiere dove per secoli abitavano liberamente. Dall'altra parte del fiume, dall'altra parte della Vistola, visiterete invece un luogo che non è un quartiere ebraico. Non è un luogo ebraico o della cultura ebraica, è un luogo della non cultura nazista, è un luogo della persecuzione degli ebrei. E' il ghetto nel quartiere di Podgusa. Su questa foto vedete ancora una parte della recinzione che i nazisti hanno fatto a questa zona, dove relativamente tardi, nel 1941, quindi due anni dopo l'aggressione, o un anno e mezzo perché è primavera 41 e dopo l'aggressione alla Polonia, costringono tutti gli ebrei di Cracovia, circa 15.000, a vivere in alcune strade che prima ospitavano circa 3.000 polacchi. E per quasi due anni vivono in questo ghetto, da non confondere col quartiere ebraico, in modo mostruoso, vivono per modo di dire, chiaramente subiscono la fame, il freddo, la violenza, fucilazioni, deportazioni, vivono fra virgolette gli ebrei di Cracovia in questo ghetto. Di questo ghetto ci sono poche tracce, alcune andrete a visitare. A proposito delle scelte, delle cose che succedono e che poteva sempre andare anche diversamente, va sempre ricordato anche nei momenti più difficili, anche nella storia per esempio del ghetto di Varsavia, è molto famoso, ma anche nel ghetto di Cracovia abbiamo l'organizzazione di combattimento ebraica, l'organizzazione ebraica di combattimento, e anche qui abbiamo nomi, cognomi, volti di persone che hanno fatto la scelta di non obbedire, di non farsi portare via, di non stare nel ghetto, facevano la cosa più incredibile per gli ufficiali nazisti. Questi partigiani ebrei uscivano armati dal ghetto e colpivano i nazisti in mezzo all'altra città, non solo volevano difendere fra virgolette il ghetto, ma uscivano e mettevano in atto azioni partigiane come negli altri quartieri e anche in centro storico di Cracovia. Quindi è importante, per non deprimarsi troppo in mezzo alla storia nazista e alla storia della Shoah, vedere che ci sono sempre stati uomini e donne che hanno combattuto, che hanno difeso la dignità di noi tutti. La storia di Gustav e Simone, una storia molto Simpson e Gustav, è conosciuta, potete trovare anche la loro storia in internet, anche se in generale la storia della resistenza ebraica è una storia spesso non nominata, nascosta, quasi per dare una parte della colpa agli ebrei stessi, alle vittime stesse della Shoah, la colpa di non aver combattuto. In realtà hanno combattuto tanti di loro. Un altro luogo a Cracovia, che voi conoscete già, perché avete visto tutti Schindler's List, è qua bisogna stare attenti, bisogna andare piano, bisogna sistemare bene l'immagine che avete in testa, perché in Schindler's List si vede Casimius, in Schindler's List si vede Portgosa, anche se lui per motivi di seta ha un po' mescolato le carte, cosa che noi se vogliamo andare a studiare, non andare al cinema ma studiare in loco, rende un po' più difficile lo studio. E anche il campo, che tutti avete presente, le scene del comandante che dal balcone per divertimento suo spara ai deportati, non è Auschwitz, Auschwitz in Schindler's List si vede solo una volta, credo, una sequenza che entra proprio nella camera gas, ma tutta la vita quotidiana che si vede in quel film è sul campo di Prashov, dove era appunto il comandante Amon Goethe. Vedete a sinistra una foto originale, lui che si sta riposando fucile in mano sul suo balcone, e la casa, dieci anni fa circa, non mi ricordo bene, che ho potuto visitarlo, non ho acquistato la casa, purtroppo qualcun altro l'ha acquistato, non è luogo di memoria il campo di Prashov e questa è la casa di Goethe, e qualche ricco si sta aggiustando la propria villetta e sta distruggendo le tracce della casa del comandante. Anche questo accade purtroppo in Polonia, dove negli ultimi anni hanno aperto vari nuovi musei meravigliosi sulla storia delle volte molto nazionalista, molto militarista polacca, per esempio i musei per i partigiani cattolici, ma anche musei meravigliosi sulla storia come Vassavia, degli ebrei, sulla cultura ebraica, un nuovo museo aperto pochi anni fa sui giusti polacchi, insomma ci sono tutta una serie, la stessa fabbrica di Schindler è diventata musea negli ultimi anni, adesso la devono chiudere perché ci sono troppe visite e devono ripensare come organizzare il museo, perché hanno il triplo delle visite previste e aspettate, quindi in Polonia si aprono un sacco di musei nuovi, ma in mezzo ci sono ancora purtroppo anche luoghi molto importanti, completamente dimenticati come Puascev.